Abbiamo spottato un trade da RR1 a 6 ai miei studenti su Eurodollaro, andiamo ragazzi al 13 settembre, questo è il trade spottato, appena preso, ok ragazzi, ai miei studenti e poi vediamo qua il trade successivamente, quindi nulla di inventato. Questa era la situazione, venivamo ragazzi da una giornata super long di Eurodollaro dove aveva fatto anche questa rottura molto molto importante, chiusura della giornata abbondantemente al di sopra, diciamo, della rottura. Questo mi aveva dato già la bias, quindi la predisposizione per il giorno dopo, ovviamente cercavo un long. Che cosa succede? Che il prezzo nella sessione di Londra, dopo la sessione asiatica, mi sbilancia il minimo asiatico, quindi ragazzi mi va a creare questo accumulo, a un certo punto mi dà il setup per me più interessante possibile e immaginabile. Eccolo qua. Vado a prendere il long proprio in questo punto preciso, anche perché mi combaciavo ragazzi con la chiusura del daily precedente, quindi per me questa era una zona importante. Mi ha creato liquidità qua sopra, sbilanciamento di questo minimo e io alla chiusura della candela a 5 minuti entro lo stop abbondantemente largo, ok. Ho messo lo stop ragazzi abbondantemente largo, potevo entrare anche un po' più aggressivo, devo dire la verità, però volevo tenerlo largo perché spesso magari sui livelli chiave come la chiusura del giorno precedente inizia ad accumulare. Quindi avevo paura a accumulare se mi prendesse lo stop troppo stretto e poi ovviamente ragazzi parzializzato al massimo asiatico, che è il target principale sicuro e poi ovviamente trade che torna diciamo alla zona di ingresso e poi ovviamente arriva a TP nei giorni successivi. Se vuoi capire e imparare di più anche tu sul trading, scrivimi in privato.